Kate Middleton incinta scherza con il suo pancione, aiuto, quasi esplodo, la duchessa è con William, nel nord est dell'Inghilterra. Saluta la folla, si fa fare un tattoo, mette l'elmetto e, mostra le sue rotondità del settimo mese Kate Middleton incinta entra nel settimo messe di gravidanza. E si vede, se all'inizio della dolce attesa la duchessa complici le nausee di cui ha sofferto nel primo trimestre mostrava una rotondità appena accennata, ora il pancione sembra quasi esplodere. E lei ci scherza su, cappotto verde petrolio in un cappotto verde petrolio di stile militare firmato dolce. In Sunderland, nel nord est dell'Inghilterra, la coppia, durante una camminata in città, si è fermata a salutare la folla in attesa al freddo. E ha festeggiato l'apertura di un nuovo centro d'arte ricavato da una vecchia stazione dei pompieri in disuso. Si fa fare un tattoo all'interno del centro, stavolta, Kate non ha dovuto tenere il cappotto avrà avuto uno spazio di privacy per levarlo e chiacchierando con le volontari ha mostrato il pancione e un delizioso abitino premaman di Serafim Maternity. Si è fatta anche fare un tatuaggio all'ennea, un fiore sul polso. E il metto e stivali ultima tappa della visita al Northern Spire Bridge, il nuovo ponte cittadino, che sarà inaugurato in primavera. E il metti di sicurezza in testa, occhiali protettivi e cambio di scarpe per Kate, via le decolte di velluto Todd, si riparte con gli stivali Stuart Weitz. E il metto e stivali ultima tappa della visita al nostro corso.